Che correlazione c'è fra Il Cantante Liberato e la serie Mare Fuori? Iniziano ad esserci un po' troppe teorie dei fan. Cerchiamo di fare chiarizza in questo video. Ciao, sono Valerio Novara. La serie Mare Fuori è sicuramente una delle serie più biste del momento ed è ancora nella top 10 di Netflix in testa da alcune settimane. Ricordo il 15 febbraio, uscita la terza stagione su Rai 2, ma era uscita, insomma, su Rai Play già dai primi di febbraio. Alcuni fan sostengono che ci sia una correlazione fra Il Cantante Liberato e la serie Mare Fuori. E, insomma, sono venute fuori diverse cose interessanti di cui cercheremo di parlare in questo video. Innanzitutto parliamo di Liberato, un cantante che non ha mai mostrato la sua vera identità. Lui si vede sempre con un cappuccio e con questo giubbotto dove compare la scritta Liberato alle sue spalle. E non si è mai fatto vedere in volto. Alcuni fan sostengono che possa essere uno dei protagonisti della serie, ma che l'intera serie possa essere l'origine, la storia dell'origine di questo cantante. Anche perché partiamo subito con il notare che, a parte che la serie è ambientata in questo carcere minorile di Napoli, ma è una Napoli che il cantante Liberato racconta, racconta attraverso le sue canzoni. Tra l'altro, la colonna sonora di una delle scene che accompagnano la storia d'amore di Edoardo e Teresa, due dei protagonisti, e alla quale ci siamo affezionati puntata dopo puntata, è appunto la colonna sonora di quella scena, è appunto una delle canzoni più famose di Liberato. Tra l'altro, in uno dei suoi ultimi concerti a Procida, il cantante avrebbe sussurrato effettivamente il nome Teresa prima di iniziare a cantare, e tutte queste cose sapete bene che, insomma, poi i fan collegano, e potrebbe essere effettivamente legato ad uno dei personaggi della serie TV. Cerchiamo di capire chi sia. Come spiegavamo in un altro video, il carcere minorile di Marefuori esiste davvero, è quello di Misida, che si trova a Napoli, non è nella location mostrata nella serie, perché quella è la marina militare di Napoli, però esiste davvero un carcere minorile. Per i fan, la teoria principale che sta andando per la maggiore è che Liberato provenga appunto da un carcere minorile, in particolare da quello di Misida, e che la storia racconti come sia nata la sua passione per il canto, e in particolare c'è un personaggio, Cardiotrap, al quale ci siamo affezionati, e che è davvero un bel personaggio per questa serie, che ci sta molto bene nei meccanismi intorno a questa storia. Cardiotrap potrebbe essere il Liberato delle origini, anche perché in una scena si esibisce con una felpa e un cappuccio sulla testa. Tra l'altro i fan hanno notato che in una delle scene, in alcune scene, i protagonisti nominano continuamente Liberato, e questo potrebbe essere un'altra correlazione tra il cantante e questa serie TV super acclamata. Ci sono insomma tanti elementi che ci fanno pensare che Liberato possa essere il Cardiotrap della serie TV Mare Fuori. Voi ditemi la vostra nei commenti, ditemi se siete d'accordo, e se vi sta piacendo come sta andando avanti la serie, iscrivetevi al nostro canale YouTube Ciacchiazione, mi raccomando, attivate le notifiche con la campanellina, ci trovate anche su Facebook e Instagram Ciacchiazione, dove ogni giorno postiamo news che riguardano il mondo del cinema e delle serie TV. Al prossimo video!